Siamo chiamati a meditare il mistero profondo dell'esistenza umana, della sua vocazione, della programmata e a vedere anche tutta l'opera della redenzione di Dio nel corso della storia dell'umanità fino ad arrivare alla Santa Famiglia. Perché una famiglia? Il Salvatore del mondo non è un eroe solitario venuto chissà da dove, ma è qualcosa che rappresenta la volontà di Dio e qualcuno che nasce dall'interno della creazione di Dio pur non essendo creatura. La creazione di Dio dunque ha un inizio e uno sviluppo così come Dio lo vuole. Vuole che esista, lo fa progredire in scansioni inere, che chiama giorni creativi o giorni della creazione, fino a quando interviene la creazione dell'uomo, il quale appartiene alla natura, appartiene a questo sviluppo lento di tutto ciò che esiste, che noi chiamiamo creato, l'universo, la terra, l'ambiente, l'acqua, la terra, l'aria, i minerali, tutta la vegetazione, lo sviluppo degli animali, il mondo animale e dunque nel mondo animale anche la comparsa dell'uomo. Tutto è in un flusso della natura voluto e controllato da Dio, il quale immette in essa degli impulsi che continuamente non solo lo mantengono in vita, ma provocano degli effetti di creazione nuova. Ci sono degli impulsi soprannaturali che iniziano in modo particolare con la nascita dell'uomo, la comparsa dell'uomo, nel quale viene immesso l'alito divino. Lo spirito di Dio è nell'uomo, è un'anima chiamata l'immortalità, eppure è fatto di fango e di terra, ovvero viene da quella stessa terra da cui proviene tutto l'insieme degli organismi esistenti. Ma con questo impulso maggiore l'uomo sale nella scala degli esseri intelligenti, coscienti, liberi. E in questa libertà l'uomo deve essere che sia l'uomo che ha l'animalità, la parte fisica, materiale, noi, psichica, sia la parte spirituale, per portare se stesso e dunque tutta la creazione in un mondo nuovo con un salto di qualità maggiore che Dio donerà ma che gli deve volere nell'obbedienza alle sue leggi e ai suoi decreti, in un accordo di volontà libere. Questo è il salto di qualità dell'uomo. Dunque l'uomo nasce come famiglia e si moltiplica come famiglia. Il popolo di Dio, il popolo degli uomini, è dunque una famiglia. Quello che noi adesso chiamiamo chiesa è questa famiglia dalla quale sono chiamati gli uomini che vogliono con buona volontà aderire al processo del dono di un gradino superiore per l'ingresso nell'eternità. Questo processo per invidia del diavolo è stato bloccato fino all'inizio e non impedito, ma se impedisce l'uomo non può impedire Dio. La Santa Famiglia dunque è lo scatto ulteriore dentro la storia dell'umanità iniziando dall'immacolata concezione per poter generare il Cristo immacolato che è l'uomo nuovo, così come Maria è la nuova donna, che come famiglia generano nello spirito quelli che, e siamo noi, provengono da questa creazione voluta da Dio ma deturpata da quello che è il peccato che ha fatto decadere questo sviluppo. Anziché farlo salire in un gradino più alto, il peccato l'ha fatto cadere in un gradino più in basso è reso prigioniero, una sorta di animalità intelligente e dunque perversa. Chi vi ha detto che eravate nudi? La malizia del peccato del serpente. Questa perversione, questo peccato che domina e rega tutti gli uomini di tutta la terra viene interrotta dalla Vergine Immacolata e dal figlio, l'innocente, l'agnello di Dio che da lei nasce per coprire tutti i peccati dell'umanità pervertita e fa le compiere di nuovo con estrema fatica quel salto ulteriore per portare tutta la famiglia umana, il genere umano, nella realtà dell'eternità attraverso la morte che non rimane per sempre schiavitù di quello che il diavolo ha voluto, cioè il suo inferno animale, ma portarlo con un salto della risurrezione verso la santità. La famiglia dunque è santa famiglia perché è purificata da ogni peccato, o meglio, la santa famiglia nell'origine di Gesù e Maria insieme al padre Giuseppe sono prive di peccato e Giuseppe è purificato dal peccato mediante le varie prove che, come sappiamo, Dio gli ha dato, gli ha posto. Questa famiglia santa e santificata nel suo complesso è l'origine, il modello di quello che deve essere la natura intera, tutto l'ordine del creato nella sua naturalezza, che compie un passo verso il soprannaturale. Ogni peccato contro la natura, dunque, è un peccato contro l'ordine intrinseco delle cose volute e create da Dio e ordinate a questo fine soprannaturale. Non è semplicemente una libertà nel fare ciò che si vuole, ma è un'interruzione con il peccato di questo cammino di ascesa, di questa vocazione, Chiesa vuol dire anche avvocati, l'assemblea convocata per entrare come assemblea, che vuol dire come popolo di Dio, come famiglia di Dio in quello che è l'eternità del cielo. Tutti i peccati contro la famiglia, contro la natura, contro la verità dell'essenza stessa del creato di Dio, sono un peccato contro Dio, il suo ordine e il nostro testino soprannaturale. Ma con la Santa Famiglia abbiamo il segno tangibile e la speranza e la possibilità per fede di aderire di nuovo a questo progetto, non presi in quello che sarebbe stato il nostro percorso naturale e soprannaturale, ma dall'inferno, dalla bestialità in cui noi siamo caduti. Chi poi vuole rimanere in questo è libero di rimanere, ma chi vuole essere salvato deve essere semplicemente pronto ad afferrare quella mano che Cristo ci tende per portarci là dove Lui si trova. Dio vi benedica.